1800 il west più o meno nell'idea popolare è così la parola west indica però il periodo di progressiva occupazione da parte degli americani bianchi l'west è anche un ideale perché è una terra di frontiera dove tutto è ancora da scoprire da costruire dove ancora la legge non è arrivata e si può essere liberi sicuramente tra i personaggi che caratterizzano l'west troviamo i cowboy gli indiani e le salon girl i salon dell'west erano predisposti per il gioco d'azzardo ma anche per incontri di box e lotto traccani molti avevano anche un palco su cui far esibire attori maghi e ballerini no va bene così e allora fai come vuoi grazie a tutti 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 grazie a tutti